Buon pomeriggio a tutti dal vostro grande Capitan Napoli e benvenuti in questo nuovo video. Appena terminata Lazio Genua, valevole per la sesta giornata di Serie A giocate oggi alle 15 e terminata con la meritata e rubuante vittoria per la Lazio per 4-0 con gol al settimo del primo tempo di Milinko Vissavic su Asti e Vici Rimobile raddoppe al quarantesimo di Radu su Asti e di Luisa Alberto 3-0 al cinquantanovesimo di Caicedo e quarto gol di Immobile. Con questa vittoria la Lazio si porta in questo momento a 10 punti al quinto posto. Andiamo molto velocemente ad analizzare la partita. Dopo sette minuti la Lazio va in vantato, rete di Milinko Vissavic sponde di Immobile e Milinko Vissavic da dentro l'aria batte Radu. Poi arriva il raddoppe al quarantesimo del primo tempo della Lazio con Radu Lazio fa il 2-0, rete di Radu. Il difensore rumeno trova il raddoppio con lo splendido tiro di sinistro pallone all'incrocio dei pali, assist di Luisa Alberto. Lazio avanti di due gol alla fine del primo tempo sblocca il risultato Milinko Vissavic al settimo. Raddoppio la firma Radu al quarantesimo. Gol annullato Luisa Alberto. Liguri pericolosi solo con Rumero. Nel secondo tempo arriva il 3-0 che chiude la partita al cinquantanovesimo rete di Caicedo. Milinko Vissavic grande partita oggi in buca Caicedo che è l'Uderadu in uscita in sacca a porta vuota. Arriva anche 4-0 al settantottesimo di Ciro Immobile. Luis Felipe inventa Immobile solo davanti al portiere e non perdona. Finisce così. La Lazio batte meritatamente 4-0 e riscatta l'ultima sconfitta di campionato. Mettete un bel like a questo video. Chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale sempre e comunque Forza Napoli.